Eder. Mech. Pallister. Il 26 gennaio verranno esaminati i consulenti delle parti civili, il 30 i consulenti della difesa, io, l'ingegner Cosmo di Mille e lo psicologo forense dottore Enrico Delli Compagni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Eder. Mech. Eder. Mech. Eder. Mech. Eder. Mech. Eder. Mech.